Donne informate, consapevoli e comunicative. È questo l'obiettivo della conferenza paziente diplomata, seminario dedicato alle donne con e senza il tumore al seno. Un appuntamento annuale che Humanitas Cancer Center organizza da tre edizioni e arricchisce ogni anno di novità. Fra queste arriva Mamma voglio che tu stia bene, un libricino che descrive attraverso gli occhi di un bimbo di otto anni la malattia della madre, per spiegare ai genitori che non vale la regola, nel dubbio non lo diciamo ai bambini. Il dialogo fra mamma e figlio infatti è la giusta via per non creare sconvolgimenti nei più piccoli. Parola della psicologa e autrice del libro Beatrice Chiodini. Questo piccolo libro è stato scritto apposta per fornire uno strumento ai genitori, proprio per cercare di aiutarli perché potessero in qualche modo trovare la forza e la capacità di comunicare questa notizia ai bambini che hanno bisogno di sapere cosa succede. I bambini non hanno difficoltà a comprendere, i bambini sono sempre alla ricerca di un significato e quindi in realtà in tutto questo la difficoltà maggiore è dell'adulto che deve spiegare, non tanto del bambino a comprendere quanto succede. Un'occasione per tante donne che hanno avuto così la possibilità di chiarire i loro dubbi, come spiega il dottor Wolfgang Gatzmeier. La domanda più spessa è, può tornare la malattia? Quando è stata trattata la donna ha paura che sia mala di nuovo e la seconda domanda è cosa posso fare per evitare che questa malattia torna e sicuramente noi offriamo tutti i modi di controlli e di sostegno per aiutarla. Le donne la prendono come una cosa importante non solo per l'informazione ma anche per la comunicazione tra di loro, scambiare idee, emozioni e poi con una certa consapevolezza anche portare questo messaggio avanti a altre. Spazio anche ad un momento dedicato al Tai Chi, volto a sottolineare la sintonia del corpo fra spirito e mente che ha arricchito la giornata organizzata nel tradizionale mese della prevenzione senologica. L'evento dell'anno scorso l'ho perso perché ero in una fase psicologica abbastanza devastante per cui non ho voluto perdermi quello di quest'anno. Una mia amica che appena ha scoperto di essere malata ha una figlia che fa la prima superiore, un figlio più piccolo ed effettivamente comunicare ai ragazzi che la mamma che è un po' perno della famiglia, del nucleo familiare non sta bene, quindi psicologicamente a terra è una cosa importante. Noi abbiamo familiarità avendo avuto una mamma che è stata malata di tumore e una sorella. Facciamo sempre tutte le nostre varie, i vari controlli per la prevenzione e quindi ogni anno ci vengo volentieri per vedere anche se hanno scoperto qualche nuova medicina. Essendo stata appena operata di cancro al seno qui riesco a trovare magari delle spiegazioni non migliori ma più approfondite. Sono stata toccata in prima persona purtroppo da questo fatto, da questo evento misterioso che ogni tanto si accanisce su noi donne. In realtà me ne sono sempre occupata anche prima perché è comunque qualcosa di grande che ha legge sopra di noi. Purtroppo 11 anni fa sono stata operata anche io al seno e mi interesso sempre di tutto, di quello che è le novità, le cure, le terapie e questo è un convegno molto importante per me e è già il terzo anno che veniamo. Grazie a tutti.